L'oltrepo gioca la sua terza partita consecutiva in casa contro uno e saranno alla ricerca della seconda vittoria in pochi giorni dopo quella conquistata a Meda. La prima chance capita proprio agli ospiti con Sala che manda alto la distanza ravvicinata al cross di Pontigia. Rispondono i biancorossi con il tiro di vaglio, vinci, para e la difesa allontana. Oltrepo che prova nuovamente a sfondare la linea difensiva, ma la difesa bianco celeste spazza il pallone. I padroni di casa poco dopo si vedono negare un rigore per questo intervento su Cavallotti. Noi non giudichiamo, diamo a voi l'ultima parola. Il Saronno prende piede e si fa sempre più avanti, nelle immagini di intervento provvidenziale di Bartoli che di fatto evita il tocco sottoporta di Artaria. I ragazzi di Mister Tricarico dopo qualche altro piccolo tentativo colpiscono. Palla a Pontigia che salta Gabrielli e tiro in rete. Al minuto 42 c'è il vantaggio del Saronno, con il numero 10 che festeggia con i compagni e ricorda i tifosi giunti fin dalla città varesina. Il primo tempo di fatto si chiude con Riccardo Baglio che sciupa il possibile 1-1 tirando debolmente tra le braccia di Vinci. Ripresa che invece comincia con un'occasionissima sprecata dal Saronno, con questa conclusione ravvicinata che finisce alle stelle. Oltre poche invece ci prova con questo colpo di testa di Villoni che finisce sopra la traversa. Nelle immagini Guerci rischia tantissimo regalando il pallone agli ospiti. Tiro da 40 metri che fortunatamente Villoni riesce ad intercettare per evitare il 2-0. Poco dopo lo stesso Guerci si fa perdonare con questo salvataggio sul tiro di Artaria. Biancorossi che timidamente cercano il pari. Cross di Chiellini per la testa di Ferraro, conclusione fuori dallo specchio. Ancora Ferraro ha una buona chance, il suo tiro però viene prima sporcato e poi parato dal portiere bianco celeste. Dopo una sgaloppata Sala va ad un passo dal raddoppio. La sfortuna però gli nega la gioia del gol con il pallone che si stampa sulla traversa. Ci prova allora Florenzianes a segnare, bordata su punizione che però finisce di pochissimo sopra lo specchio della porta. E al termine di un lungo recupero l'arbitro fischia la fine. L'oltre può perdere il primo dato in classifica e rimane fermo a 13 punti. Saranno che invece sale a 4-9 e può festeggiare insieme ai propri tifosi una vittoria pesantissima.